Fiumicino manda all'asta gli alloggi sociali. Lo denunciano il Comitato via Berlinguer e il coordinamento dei piani di zona. Parliamo di abitazioni costruite su un'area pubblica in concessione, finanziate da fondi regionali erogati ad un imprenditore incaricato di pubblico servizio. I prezzi non li fa il mercato, bensì li delibera il Comune e per accedervi i cittadini devono mostrare di avere determinati requisiti. Nel 2018 il costruttore è fallito per gravi inadempienze, tanto da essere oggi processato per truffa aggravata e continuata ai danni delle persone che vi abitano. Nel frattempo l'amministrazione avrebbe dovuto revocare la concessione come previsto dalla normativa, ma ha lasciato tutto in mano al Tribunale fallimentare che ha ordinato lo sgombero delle famiglie e che ha iniziato la vendita all'asta di un appartamento dell'otto a prezzi di mercato. Il nostro appello concludono nella nota i comitati, da quelle persone e quegli uffici con ancora un barlume di coscienza affinché si scongiuri la vendita all'asta di decine di alloggi sociali.